Grazie a voi per avermi permesso di partecipare, era la prima mia mostra, posso dire mia mostra, insomma la prima mostra a cui ho partecipato perché ho deciso di lasciare il posto fisso tre mesi prima che iniziasse la pandemia e per cui non c'è stata l'opportunità di esporre o di mettermi in gioco. Il fatto di aver ricevuto un premio come questo mi rende felicissima e onoratissima ed è stato assolutamente inaspettato. Per me il mio lavoro è vita, qualcosa che mi permette di svegliarmi felice tutte le mattine anche a lunedì e la ceramica è questo, la modellazione e la decorazione permettono veramente di sentirsi in pace col mondo e con se stessi e lo consiglio a tutti.